Bene amici, in questi giorni si parla tantissimo di mobilità elettrica, sostenibile, incentivi del governo e allora cade a fagiolo la prova di questa GoCycle GXI che è ingegnerizzata benissimo, oserei dire la Tesla delle biciclette la cura nel dettaglio già la vediamo da una banalità, dalla borsa quanto è semplice metterle e toglierle guardate basta tirare questa leva, togliere questo gancio che ovviamente può essere poi messo in una delle mille tasche e taschine che ha tra l'altro fatta benissimo, adesso ci metterò dentro anche il casco e voilà siamo pronti a portarcela via e poi a riattaccarla veramente semplicemente anche con una mano alla bicicletta ma questo è solo uno dei mille esempi dell'ingegnerizzazione di questa GoCycle perché vi faccio vedere come è fatta prima di tutto bellissimi monobracci per il forcione posteriore e quello anteriore molto semplice togliere la ruota per eventualmente forare le gomme, gli pneumatici sono personalizzati e hanno una sezione giusta per andare a ammortizzare un pochino le buche anche se posteriormente come vedete c'è questo ammortizzatore a elastomeri non ha una grande corsa, un po' di centimetri ma che aiuta a filtrare le botte più dure molto bella l'illuminazione che è optional e purtroppo il prezzo è veramente elevato di questa bicicletta poi lo racconterò, motore da 250 watt, 25 km all'ora come da normativa qui nel movimento centrale c'è tutta la sensoristica di coppia non di velocità ed è una bicicletta pieghevole ma di quello ve ne parlerò dopo anche davanti ovviamente c'è il monobraccio, come vedete i freni sono a disco sia davanti che dietro, poi nella prova su strada vi racconterò come frenano ma già vi dico molto bene questo è il motore, guardate che bello, con le alette per il raffreddamento e anche la gomma anteriore si può togliere molto semplicemente molto potente il faro ma poi lo proveremo con poca luce e anche il sistema di piegatura è veramente molto ben curato comodo il cavalletto centrale così che mantiene la bicicletta dritta perché quando c'è la borsa attaccata molto spesso il cavalletto laterale si gira il manubrio, si sbilancia la bici e cade qua in realtà non succede perché con il cavalletto centrale così è veramente molto molto stabile qua sopra c'è il cruscotto fatto da led che servono per vedere l'assistenza e la batteria guardate come sono curati i cablaggi questi sono i freni con i vari tubetti per il liquido perché sono idraulici che non si vedono tutti nascosti e integrati e davanti come vedete c'è il DLR ovvero la luce diurna che può essere settata su due livelli di luminosità per farci vedere meglio e si regola con questa manopola con quest'altra manopola si cambia la marcia che viene indicata da questi led vedete prima, seconda, terza marcia, terzo rapporto i rapporti sono integrati nel mozzo quindi si possono cambiare le marce anche senza pedalare ma soprattutto il cambio è automatico in base alla velocità e alla forza che date sui pedali decide automaticamente la marcia adesso lo proveremo su strada perché ho da fare tanti chilometri sono a Milano, come vedete in piazza Gaia Olenti devo andare dai miei genitori sono una ventina di chilometri fortunatamente tutti di pista ciclabile e allora andiamo a vedere come si comporta e quanto dura la batteria e monitorerò il viaggio con l'applicazione che ci dà un sacco di dati ma soprattutto permette di selezionare la modalità ovvero quanto il motore elettrico ci deve assistere c'è una modalità diciamo normale, preimpostata city, custom, on demand ma soprattutto nella modalità custom potete voi decidere quanta assistenza dare al motore io sono un pigro e la metto sulla massima assistenza e partiamo dalla giungla urbana fortunatamente sarà tutta pista ciclabile guardate in frenata le marce scalano da sole devo dire questa è una gran comodità sempre pista ciclabile vediamo come affronta questi dossettini da giungla urbana direi molto bene sono subito alla velocità massima aiuto una pozzetta gigante fammi frenare frenate super ma ho i parafanghi come vedete il parafango c'è anche dietro ma come molte cose di questa bicicletta i parafanghi sono un optional le luci sono un optional la borsa è un optional ecco diciamo che non è economica ma adesso c'è un piccolo tratto di ciclabile sul pavè guardate dietro la sospensione ovviamente lavora ma ha sì e no un centimetro barra due di escursione la ruota un po' di più ma non fa miracoli però vi assicuro che vi evita quelle botte tremende al sedere delle bici senza sospensioni davanti è un po' rigidina però le gomme così grandi un po' ammortizzano e tra l'altro il libretto d'uso e manutenzione consiglia davanti a tenere una pressione leggermente più bassa proprio per farle ammortizzare di più vedete qua il cruscotto se voi non pedalate vi dà a sinistra il livello della batteria a destra la velocità se iniziate a pedalare vi dà la potenza qua a sinistra che viene applicata al motore e mollate un attimo di pedalare riprendete cambia vedete seconda mollo un attimo non sono ancora alla velocità giusta per la terza mollo terza ripedalo e io non ho girato nessun tipo di ghiera quando si rallenta vedete che scala automaticamente anche qua guardate che schifo e che vergogna ma a parte quello ho trovato un difetto a questa bicicletta se rallentate molto ma non vi fermate tipo così sto andando a 2-3 km all'ora e ricominciate a pedalare guardate ecco dopo circa una pedalata e mezza il motore vi ridà a coppia visto che il sensore di coppia e non di velocità avrei preferito averla prima e adesso affronto una salita che praticamente è un cavalcavia e qua devo dirvi qualcosa se siamo lanciati guardate nessun problema il motore assiste bene io sto pedalando ma sto applicando veramente poca coppia il problema è se ci fermiamo e dobbiamo ripartire in salita sono fermo freno tirato mollo il freno inizio a pedalare e 1 2 3 inizia adesso l'assistenza quindi anche in situazione di salita avrei preferito un inizio della pedalata molto più immediato e voilà eccoci arrivati a destinazione sono più di 20 km comodissimo il cavalletto centrale per appoggiare la bicicletta il mio sedere sta abbastanza bene comoda la sella ma adesso vediamo i dati eccoli qua ho fatto esattamente 22,9 km e ho ancora 70% di batteria velocità media 21 km all'ora calorie bruciate media della potenza che mi ha dato la bicicletta quindi se ho fatto 22 km con il 30% a 70 km ci arriva tranquillamente devo dire che l'autonomia è buona e non l'ho risparmiata l'ho fatto un po' città ripartenze e poi tutto a 20-25 km all'ora tant'è che la media appunto è di 21 km non male l'autonomia ma adesso viene il bello cosa? piegarla e metterla in una 500 km eh sì ma non è una 500 km normale è una 500 km quindi la challenge è ancora più dura prima di tutto il borsino qua la borsa comodissima da togliere poi ci sono tutte le sicurezze leva che fa abbassare il manubrio cosa intelligente guardate qua il pedale volendo si può togliere semplicemente così e c'è questo che è lo sgancetto di sicurezza ma non è che dovete mettervelo in tasca perché c'è il posto anche per il pedale voilà eccolo lì rimetto qua il gancetto poi volendo la sella semplicemente svitando questa vite si può togliere e qua schiacciando questo pulsante tirando la leva la bicicletta si riesce a piegare molto velocemente e tranquillamente voilà eccoci qui e l'altra chicca è da questa parte questo elastichino che è agganciato qua dove c'è il campanello fa stare la bicicletta chiusa senza che si apra quando la spostiamo sul cavalletto comodissimo anche per chiuderla e adesso ci starà ma direi di sì è anche abbastanza comodamente non è troppo pesante da sollevare e oh ce l'abbiamo fatta probabilmente sarebbe stata anche con la sella vi faccio vedere un'altra chicca nella sella c'è anche vedete la brugola e con queste due punte riuscite a praticamente smontare quasi tutta la bicicletta ok torno a casa a trarre le conclusioni ma prima un doveroso ringraziamento alla cameraman di eccezione la mamma che mi ha fatto le mascherine fashion oggi non me l'ho messa ma in teoria ce l'ho anch'io muccata tutto a posto tornato rimontata veramente in un attimo e approfitto il box per farvi vedere la potenza del led anteriore supernova bellissimo ovviamente un optional molto bella anche la luce posteriore ma vi parlo della rampa questa è molto inclinata in centro 20% ma più verso la destra arriva secondo me anche un buon 30-40% e prima marcia sale tranquillamente senza fare fatica il fatto che avete visto quando andate sotto una certa velocità si stacca l'assistenza quindi mi ha lasciato in panna così a 3 cm dall'arrivo ok ce l'ho fatta niente il discorso di assistenza quando si va a basse velocità secondo me è da rivedere che poi è solamente un settaggio software quindi basterebbe un aggiornamento del firmware ovviamente se si prende la rampa un po' più veloce anche qua dove la pendenza è tanta l'assistenza non molla e nonostante la trazione sia anteriore nessun problema gli pneumatici fanno veramente un bel grip e in discesa i freni a disco idraulici frenano alla grandissima e in ufficio traiamo le conclusioni nel frattempo la spengo e vi dico che anche spenta senza assistenza del motore si pedala veramente facilmente non è pesante insomma non è un cancello ingegnerizzata benissimo soprattutto la minima attenzione o meglio la massima attenzione al minimo dettaglio perché tutto è al posto giusto si piega veramente molto facilmente si riapre altrettanto facilmente la batteria da 375 watt ora avete visto ci consente una buona autonomia si carica col caricabatteria rapido che devo dire un po' rumorosetto perché ha la ventola in circa 4 ore ma già in un'ora ci dà 30 km di autonomia c'è anche il caricabatteria lento meno rumoroso che però ci mette quasi il doppio a caricare sto tergiversando perché perché siamo arrivati al punto dolente il prezzo 3199 per la versione GX per questa versione che è la GXI quindi con tutta la tecnologia che vi ho fatto vedere 4199 esclusi gli optional quindi esclusa la borsa 180 euro esclusa la fanaleria di serie penso ci siano i catarin frangenti anche qua sono 180 euro esclusi i parafanghi insomma per averla completa bisogna spendere tanti soldi è vero che è ingegnerizzata benissimo ma è anche vero che qualche difettuccio l'ho trovato per esempio il software di gestione della potenza del motore a volte un po' lento darci potenza avete visto in salita sotto una certa velocità stacca visto che c'è l'applicazione visto che è personalizzabile la curva di potenza visto che c'è il sensore di coppia preferirei un affinamento del software speriamo che arrivi una bicicletta fantastica con la F maiuscola molto cara non per tutti probabilmente godrà degli incentivi mi è piaciuta con qualche ma ovviamente a questo livello di prezzo deve essere la perfezione e qua a livello software ancora qualche virgola manca un saluto da andrea galeazzi punto com e qua a livello di potenza e qua a livello di potenza